Buon dizionario! Allora diciamo che oggi siamo all'esterna. Siamo al parco regionale della Mandri. Abbiamo fatto un'esterna. Questo è uno dei due laghi che ci sono nel parco. Io sono in bicicletta perché non avevo voglia di farmela tutta a piedi. Comunque dicevo che io vi saluto ed appuntamento al prossimo dizionario di lingua. Un parco molto grosso e esteso. Vi consiglio di andarlo a vedere. Buon dizionario! Ciao! Mi piace sto parco? Diciamo. Ciao!